Le liste d'attesa sono raddoppiate in Toscana e segnano un più 30% ad Arezzo, ma non solo. Pochi posti e troppo cari, con famiglie sempre più in difficoltà e rette che possono sfiorare anche 4.000 euro se non ci sono le compartecipazioni regionali e comunali. È un panorama senza dubbio preoccupante, quello illustrato dal vice sindaco di Arezzo Lucia Tante in merito alle condizioni degli anziani che hanno bisogno di un posto in una struttura. Le compartecipazioni, spiega, sono sempre più onerose e ricadono sulle finanze pubbliche in un vortice che, in Toscana, appare sempre più senza controllo. Adesso è sotto gli occhi di tutti che questo sistema rischia il collasso producendo iniquità e profonde ingiustizie sociali. Da tempo il comune di Arezzo lancia l'allarme, ma propone anche soluzioni che da ultimo sembra possano trovare alcuni spiragli di riflessione, condivisa e risposte pragmatiche. Quel che è certo è che così non va, per questo metto a disposizione la città di Arezzo per ospitare un dibattito sulle nuove politiche della terza e quarta età. Dibattito aperto, laico, concreto e non ideologico che parla della realtà. Poi l'annuncio è entro ottobre in collaborazione con il garante degli anziani faremo un primo focus a Municipale Età d'Argento. Propongo fin da ora che sia quello il luogo giusto per confrontarci assieme con tutti quelli che vorranno prendere atto che così non va e che il sistema ha bisogno di modifiche puntuali e veloci. Noi siamo pronti, conclude, e sappiamo che alle famiglie e ai nostri anziani ora servono risposte.